Taranto investe sulla cultura e grazie all'arrivo di 13 nuovi bibliotecari e aiuto bibliotecari attraverso ditta esterna, si prolunga l'apertura della Biblioteca Clavio di Taranto. Questi i nuovi orari, da lunedì al venerdì, dalle 9 alle 20.30, orario continuato, sabato e domenica, 9.30.13 e poi 16.30.20. Più ore ma anche più attività culturali, spiega il direttore con laboratori e non soltanto, il sindaco invece punta sulla derivazione Kids in via Pisa. L'obiettivo è sicuramente quello della nuova utenza, ma vogliamo arrivare a questo obiettivo attraverso due strade. Attraverso la strada dell'intensificazione delle attività culturali che saranno portate avanti dalla ditta appaltatrice e anche un miglioramento delle condizioni bibliotecarie, quindi della cura dei libri e del miglioramento delle proposte librarie. Mettiamo in rete il MUDIT che adesso vedrà nei prossimi giorni il nuovo avviso per il modello di gestione e stiamo per riqualificare anche il plesso di via Pisa dove la biblioteca va incontro ai bambini, va incontro alle esigenze e ai desideri dei più piccoli e diventa Clavio Kids. In questa rete bibliotecaria tante iniziative anche nel corso dell'estate e soprattutto dei fine settimana dove stiamo ampliando l'offerta dei servizi grazie a un bando specifico in collaborazione con tante realtà di questa città. Grazie. Grazie.